Sono Luca Pasini, azienda agricola San Giovanni, sono qua per raccontarvi quella che è la mia esperienza con l'impianto fotovoltaico dopo tre anni e mezzo dall'installazione. L'esperienza per quanto mi riguarda è più che positiva, l'impianto fotovoltaico che vedete alle mie spalle ma che sta anche alle spalle dell'operatore, copre l'intero tetto dell'azienda, è un impianto fotovoltaico da 90 kilowatt picco, questi sono pannelli in silicio amorfo, pannelli in grado di produrre energia elettrica dal sole e che non hanno l'obbligo di essere orientati sempre per forza verso il sole, hanno una caratteristica per la quale producono un po' meno con la massima esposizione solare ma producono sempre in condizioni come quella odierna che non è una giornata di sole pieno ma è una giornata decisamente autunnale. I dati sono assolutamente incoraggianti, a parte la piena sostenibilità aziendale, per cui la capacità dei pannelli di darmi energia elettrica che mi serve. Il caso dell'azienda agricola che produce vino, quale la mia, è un caso particolarmente favorevole all'utilizzo del pannello fotovoltaico perché il grosso dell'energia elettrica viene utilizzato in piena estate, quando il sole è allo zenit quindi riesce a darmi la maggiore efficienza produttiva del pannello. In questi tre anni e mezzo hanno prodotto, perché io non ho fatto proprio nulla se non venire a guardarli, hanno prodotto 312.000 kilowattora, una media di 90.000 kilowattora l'anno. Io utilizzo, ai dati più recenti che ho estrapolato stamane, utilizzo il 93% di energia prodotta dai miei pannelli e un 7% di energia vado ad acquistarla. Questo perché ovviamente il pannello di notte non funziona, non è in grado di darmi corrente elettrica. Vero anche che in estate il sole sorge alle 6 di mattino e tramonta alle 9, il 21 giugno mi pare tramonta alle 9.30, quindi hai una capacità di produrre l'energia elettrica che è decisamente ampia. Questo mi ha fatto risparmiare tantissimi soldi, vale a dire, tantissimi soldi in relazione a quella che è la mia attività, vale a dire sono passato da una bolletta del corrente di circa 21.000 euro annui a spenderne circa 4.000. E questo è un dato economicamente incoraggiante e importante. L'altro dato economicamente incoraggiante è il fatto che per l'installazione dei pannelli ho dovuto fare un mutuo, un mutuo che vado a pagare per il 95%, dal 90 al 95% con i soldi che il GSE mi dà come scambio sul posto e come incentivo per la produzione dell'energia elettrica da fonti alternative. Per cui in buona sostanza io sto pagando i pannelli fotovoltaici alla banca con gli incentivi che il GSE mi sta dando. Gli incentivi il GSE me li dà per 20 anni, il mutuo è per 10 anni, per cui io tra 7 anni, tra 6 anni e mezzo per essere corretti, continuo a prendere gli incentivi da parte del GSE e non dovrò più pagare il mutuo, quindi porterò a casa una buona quantità di euro in virtù del fatto che comunque continuo a produrre energia pulita e continuo a non inquinare e a non dar fastidio all'ambiente. L'aspetto secondo me ancora più importante dell'aspetto economico, che comunque è fondamentale per compiere determinate scelte, perché su un'azienda non campa solo il sottoscritto ma anche tutti i dipendenti, gli operai, gli impiegati che hanno a che fare con l'azienda, l'altro fatto molto importante è che non nego un grosso piacere nel vedere il contatore che fa salire i numeri senza aver bruciato un pezzo di carbone, senza aver bruciato un litro di petrolio, gasolio, senza aver bruciato gas, senza aver costruito una diga, senza aver dovuto far nulla, se non installare dei pannelli semplicissimi che attraverso le onde, l'energia solare la trasformano in energia elettrica, quindi è un'energia altamente pulita. Peraltro tutti i detratori del fotovoltaico dovrebbero essere informati del fatto che la produzione e lo smaltimento di un pannello fotovoltaico in realtà ha degli impiatti ambientali bassissimi perché è prodotto con silicio che è un materiale molto presente sulla terra e che è lo stesso che viene utilizzato per produrre il vetro, in buona sostanza, alluminio per costruire il telaio e due strati di vetro. Dopodiché ci sono i cavi che portano la corrente all'impianto ma nulla di più e nulla di particolarmente inquinante, non esistono metalli pesanti, cadmio o altre cose strane. Un altro argomento assolutamente importante è posto in relazione al fatto che il pannello deve durare 20 anni. Tutte le case produttrici di pannelli garantiscono una perdita di efficienza del 20% nei 20 anni, per cui dopo 20 anni in teoria un pannello produce il 20% in meno e mantiene per l'80% la sua produttività. In questi tre anni e mezzo io non ho visto una perdita dell'1%, non l'ho vista. Anzi, la scorsa estate è stata un'estate particolarmente assolata, per cui la produzione di energia elettrica è addirittura aumentata rispetto all'anno precedente. La manutenzione non esiste per quanto mi riguarda, so che sono in commercio delle macchinette che puliscono i pannelli, ma i pannelli vengono naturalmente puliti dalle piogge che arrivano con una frequenza ultimamente abbastanza importante e il problema neve, anche a queste latitudini comunque, pur avendo vicino il lago di Garda, capita che neve chi, il problema neve è un problema che si risolve in un giorno o due. Si accumula la neve, il pannello è molto scuro, non appena un angolo viene bollito dagli altri eventi atmosferici, si scalda ed immediatamente la neve si discioglie, per cui se su un terreno la neve rimane 15 giorni, sul pannello ci sta due giorni, tre giorni. Riduce comunque la produttività, ma stiamo parlando dei giorni più freddi, più corti di tutto l'inverno, per cui la produttività del pannello è comunque bassa. L'altro aspetto estremamente importante è che i pannelli fotovoltaici che ho installato sono in grado, mi hanno fatto risparmiare in questi tre anni e mezzo, circa 150 tonnellate di CO2 immesse in atmosfera. Cioè se l'energia elettrica che io ho prodotto fosse stata prodotta da combustibili fossili, avremmo immesso in atmosfera 150 tonnellate di anidride carbonica, il che significa ovviamente effetto serre, inquinamento, problemi eventuali respiratori, o comunque malessere generale. E considerato il fatto che l'economia di territorio è largamente basata sull'agricoltura, che sia olivicoltura, che sia viticoltura, il mettere un pannello fotovoltaico, oltre che un buon intervento economico per un'azienda, è anche un ottimo intervento dal punto di vista ambientale. Vado a tutelare quelli che sono i prodotti del territorio, vado a tutelare quello che è l'ambiente e è una tutela che faccio sia a me stesso attraverso la cercare di produrre un prodotto il più pulito possibile, ma anche a tutte le persone che abitano nel territorio, in qualche modo ne tragano giovamento. Non stiamo inquinando.